Minerva è assegnato dall'Accademia delle Arche delle Scienze Filosofiche al dottor Onofrio D'Alessio. Per un'informazione un giornalismo di qualità al servizio della comunità. Queste le motivazioni che hanno portato la commissione del premio Seneca 2020 ad attribuire al direttore di Antenna Sud Onofrio D'Alessio il premio Minerva alla carriera per il giornalismo. Minacciata, inseguita e circondata da 6-7 persone alla presenza del sitaco di Vitondo Michele Abbaticchio e alcuni agenti della polizia locale. La soddisfazione è stata anche quella qualche volta di aver detto no agli editori, di aver detto no ad una impostazione della notizia che non era coerente con quelle che sono anche le peculiarità, c'è le caratteristiche del mio modo di fare il giornalismo e quindi di non condividere spesso e volentieri, di non andare dietro il greggio. Io sono una voce fuori dal coro e ritengo di essere sempre stato con tutti a pescino. La cerimonia nelle sale del Castello Svevo di San Nicandro di Bari insieme al direttore della testata pugliese sono stati premiati con il Seneca alla carriera per impegno letterario e il poeta, scrittore e regista Franco Arminio e con il premio alla carriera Auriga per impegno sociale l'oncologo e chirurgo Francesco Schittulli.